...e come potrebbe fare il medico, non sono molto banalizzato, magari mi griderebbero. Il giurista inserisce un fenomeno, una persona, in una categoria, perché inserisce in quella categoria gli applica una regola piuttosto che un'altra. Se sta bene in quella categoria, gli applico l'articolo 5,4 della legge 7 del 1900 quadro del pesca, se non serve la categoria, no. Quindi la funzione dell'essere qualificato sport, e poi vedremo io, lo dico e lo cancello subito. Secondo me non interessa, a me non interessa qualificare lo sport, non interessa capire se sta, se questa roba qui sta dentro l'ordinamento sportivo, può essere sport, sport è una categoria molto ampia, a me interessa l'ordinamento sportivo.